Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, 9 km di coda per traffico congestionato tra Firenze in Pruneta e Calenzano Sesto Fiorentino. Sempre in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Monte San Savino e Valdarno e tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti per il traffico intenso tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Firenzuola. Sempre in A1 per lavori, chiuso lo svincolo di Roncobilaccio in entrambe le direzioni. Stostandoci sulla FIPL in direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra Empoli ed Empoli Est. L'uscita di Livorno Aurelia è chiusa per lavori provenendo da Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!